Marco Zanelli dalla Serie A1 con il Volley Bergamo alla Serie A2 con l'Esperia a Cremona. Per te, coach, è un po' un ritorno alle origini questo? Sì, Cremona è stato soprattutto nella provincia di Cremona, io ho fatto i primi passi e quindi è veramente un ritorno alle origini. Al Cambonino ho fatto i primi step, i primi gradi come allenatore e quindi sarà sicuramente un'emozione passare una stagione così importante lì dentro. la mia prima esperienza da primo allenatore in un campionato di Serie A. Ci sono già delle conferme e delle novità nel roster di Cremona, che squadra sarà la tua? Sarà una squadra sicuramente giovane, per volere soprattutto della società abbiamo deciso di puntare su giovani talenti affiancati da qualche sicurezza come può essere la pagheggiatrice Sofia Tuerclà. Per quanto riguarda il campionato sarà la seconda stagione di Cremona in Serie A2, la prima si è conclusa con una salvezza arrivata con due giornate d'anticipo. C'è la volontà di alzare l'asticella, il che significherebbe andare nella parte sinistra della classifica nella prima parte di stagione. Sì, sicuramente l'obiettivo stagionale è quello di migliorare quanto fatto l'anno scorso, magari entrando direttamente nella fase play-off a metà campionato se la formula del campionato dovesse rimanere la stessa. A livello personale cosa chiedi e cosa ti aspetti da questa stagione da primo allenatore? Mi chiedo personalmente di non cambiare il mio atteggiamento rispetto a quando facevo l'assistente e quindi di portare molta gioia in quello che faccio a tutte le ragazze che ho contattato ho chiesto di divertirsi in campo anche se siamo professionisti ciò non vuol dire che non dobbiamo divertirsi e creare un gruppo oltre che una squadra che questo può portare anche grandi risultati. Grazie a tutti.